Con occhio sto a fare sto video, con l'altro sto guardando la Roma contro la Portimonense quindi dopo parleremo anche della Roma, faremo un video unico per la Roma e per l'Inter perché l'Inter è iniziata relativamente da poco, la Roma è iniziata invece da più tempo, da quasi un tempo e sto guardando la Roma, ho guardato il Milan su Sport Italia da TV ho guardato e sto guardando la Roma in questo momento da cellulare qua perché ovviamente oggi è grande giornata di amichevoli e ci tenevo come avevo già detto a più riprese a fare il conto di quello che poi sarà la prossima stagione di quella che poi sarà la prossima stagione, i primi, come posso dire, le prime lineette che si vanno a delineare e dopo la partita contro le minne del Milan, stavolta il Milan in due tempi da 45, questa volta affronta il Colonia questo era un match attendibile, sì, questo era un incontro assolutamente attendibile solo un amichevole, cioè io lo dico sempre, non ci mettiamo a costruire, solo un amichevole però di livello, però di assoluto livello da parte dei rossoneri che posso dire, poi vi ripeto, una stagione intera non si giudica da un amichevole però quello che mi ha dato oggi la gara del Milan a livello mentale è che sono pronti è che loro sono pronti poi ovviamente vi ripeto, è il Colonia, non è il Barcellona, ma soprattutto è un amichevole quindi non c'è nulla in palio e le cose cambiano come la gente cambia le mutande praticamente però l'amichevole serve anche per capire il livello di preparazione e io penso si possa dire tranquillamente che il livello di preparazione del Milan a questo punto è a buon punto, penso si possa dire è un Milan che va a giocare contro il Colonia con il classico 4-2-3-1 ma con una marea, il sottolineo una marea di turnover gioca in porta da Tarusano che è giusto che faccia un po' di minutaggio in realtà anche per capire poi come si muovono i compagni di titolare dietro c'è Callulù, gioca però vicino a Gabbia a destra c'è Florenzi che però per me comunque continua ad essere a titolare Calabria e a sinistra gioca Balloture che io ripeto di vedere sempre molto in forma non parlo di forte o non forte, dico in forma in questo precampionato a me Balloture mi sta dando una bella impressione in mediana Pobega e Bagaioco ho provato a parlarvi di Pobega in mediana e qualcuno subito si è difeso dicendomi Pobega è un trequartista lo so benissimo che Pobega è una mezzala che gioca più sulla trequarti che sulla mediana lo so benissimo però Tattopioli gli sta facendo fare il mediano e probabilmente giocherà lì perché si ha deciso di tenere Pobega e ha deciso di tenere Brahim Diaz però il Milan è comunque su un trequartista allora tutto questo significa che ad ogni modo Pobega non giocherà trequartista perché tu non è che tieni Brahim come trequartista tieni Pobega come trequartista prendi anche un altro trequartista si vuoi? che altro vogliamo inventarci? no, assolutamente no Pobega giocherà da mediano sarà un nuovo ruolo che scopriremo in questa stagione oggi ovviamente giocava vicino a un giocatore più di rottura come Bagaioco un giocatore molto più difensivo e quindi Pobega aveva anche la possibilità di avanzare conferma Brahim Diaz sulla trequarti che gioca un tempo e tra le altre cose fa un assist giocare Bic a sinistra Messias a destra e Giroud davanti ma oggi come vi ho già detto c'erano tante 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 mancanze per citarvene alcune mancava Tomori mancava Gier mancava Calabria mancava Maignan mancava Teo Hernandez mancava Benazer mancava Tonali mancava Selemeker Krunic Leao e Origi e questi non erano proprio partiti erano rimasti a Milano a Milanello ad allenarsi quindi capite che il Milan partiva già in questo modo comunque per provare le seconde linee tant'è che tra quelli che vi ho letto forse l'unico che si può definire gli unici due che si possono definire titolari sono Calulu e Giroud ma Giroud più o meno come Florenzi cioè in questo momento Giroud è titolare più di Origi però tu hai preso il Belga per fargli fare il titolare penso poi si alternerà come Florenzi si alternerà con Calabria secondo me fatto sta che Giroud è proprio inversione Sassuolo-Milan è un Milan che nel primo tempo ne fa due e Giroud nel primo tempo ne fa già due segna subito ma io credo che il Milan e non voglio esagerare abbia fatto una sorta di colpo in banca ad aver preso Olivier Giroud io quando il Milan l'ha preso ho detto chiaramente quale grande giocatore avevamo davanti però subito la gente ha cominciato a dire vabbè tu esageri sempre no ragazzi quando il Milan prese Manzuki ciò fu il primo a dire fu il primo a dire eh no questo per me farà cagare e Milanisti stai rosicando stai rosicando non lo so c'avevo questa sensazione ha fatto cagare di Giroud avevo tutte altre sensazioni tant'è che possiamo dire che una fetta di Scudetto lo ha portato Giroud a Milano si l'ha portato Maignan si Calulu si Tomori si Leao si Tonali assolutamente Tonali si che si si tutti si tutti però anche Giroud soprattutto con la doppietta contro il Sassuolo ma poi in generale anche diciamo quella che è stata la stagione il gol nel derby che ha cambiato proprio il campionato ecco è stato il campionato di Olivier Giroud e Giroud continua ripeto oggi è un amichevole cioè parliamo comunque del Colonia però continua a dimostrare di essere l'attaccante di peso di essere l'attaccante che tu gli dai il pallone e lui te lo butta dentro vediamo ad esempio il primo gol no che il Reb dice apre sto pallone per Messias la dal centro per Giroud tocca sto pallone scavalca il portiere 1-0 Giroud è questo cioè Giroud è questo a Giroud dai un pallone e te lo butta dentro in questo caso gliene dai due perché dopo lui fa anche l'altro gol butta dentro anche per il 2-0 ma in generale ragazzi è un calciatore straordinario che secondo me può ancora dare una grossa mano al Milan e ovviamente ripeto va sempre detto che è un amichevole poi tanto i geni qua sotto diranno ma è un amichevole ci saranno sempre però va sempre detto che è un amichevole però comunque ci tengo ugualmente a sottolineare il fatto che se Giroud dovessi essere questo Giroud anche in campionato beh credo che Origi ne vedrà poco di campo ma poco 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 poi magari sbaglio allora alzo le mani e va bene così però ad oggi credo che ne veda davvero poco di campo Origi con questo Giroud li alternerà è come giusto che sia ma l'affluenza non è mai male anzi è sempre una cosa molto positiva volevo chiedere una cosa ai tifosi del Milan perché ho visto qualche malumore sia sul Twitter diciamo sul Milan Twitter ma in generale ho visto un po' di malumore quando è entrato Adli perché la gente diceva già dal principio che schifo Adli giochiamo male con Adli Adli è inguardabile a parte che anche qua voglio togliere il mio sastroio dalla scarpa perché quando avete preso sto cazzo di Adli vi ho detto ragazzi ma Adli è un trequartista no è un mediano è un trequartista no è un mediano ragazzi è un trequartista no è un mediano Adli è un trequartista no è un mediano è un trequartista Adli adesso la gente dice Adli è un trequartista lo so che è un trequartista Adli lo so lo sapevo da sei mesi che era un trequartista scusate piccolo sfogo personale detto ciò detto ciò io voglio capire che cosa vuole fare il Milan con Adli perché può giocare anche dietro nei due però è un trequartista e lì il Milan c'ha già Brahim e il Milan ne prenderà un altro si parla di De Keteler poi tra l'altro vogliamo sottolineare anche il fatto che sulla trequarti cioè ma il Milan ha già bocciato Brahim cioè io sta cosa me la domando perché perché comunque decidere di puntare su De Keteler è lecito perché lo scorso anno Brahim ha fatto male però è quasi come una bocciatura anticipata perché lo sappiamo cioè sappiamo benissimo che il Milan non terrà Brahim questo Brahim se davanti gli metti un giocatore che paghi 30 milioni di euro e ultimamente il Milan ha pagato 30 milioni mai a scatola chiusa giusto per Leao perché poi Tomori l'aveva già visto Kalulù l'ha scoperto Teo era Teo cioè Teo era Teo e giocava a Real Madrid giocava così e così ma giocava a Real Madrid quindi l'investimento che fai di 30 milioni per De Keteler è un investimento atto a mettere in panchina Brahim Diaz sì poi De Keteler può giocare anche Ala quindi Brahim trequartista però anche alla luce della scorsa stagione dove non è che abbia fatto granché io credo che sia arrivato un momento in cui Pioli forse sta dando delle spiegazioni su quello che sarà il Milan del futuro tra l'altro una piccola curiosità vi è piaciuto vedere il Milan stivarlo con lo scudetto cioè veramente era una vita che non lo vedevamo la maglia del Milan con lo scudetto con lo scudetto sul petto è clamoroso cioè è clamoroso pensarlo la stagione scorsa è stata qualcosa di assurdo e alla fine il Milan lo scudetto l'ha strappato vabbè comunque oggi era un amichevole mi torno mi torno non si può sentire però sì me ne torno a guardare la mia Roma che sta giocando contro la Portimonenza ne parliamo dopo insieme al post partita dell'Inter io vi ringrazio iscrivetevi al canale tantissimo mi piace buo cialala all'alene come sempre ci vediamo al prossimo video grazie a tutti